Il ProSession è un surf veloce dalle alte prestazioni per disegnare curve enormi su onde medio-grandi con il massimo controllo. La Costruzione Pro è il risultato di un processo di lavorazione quanto più simile all'idea di un custom. Una finitura personalizzata levigata a mano per ottenere tavole leggere, lessibili e al contempo resistenti e duraturi. La stuoia in sughero Corc Assorb 2 visibile sulla carena superiore rende il flex più reattivo per un feeling più diretto. La rete in carbonio Tecnora aumenta la resistenza della carena. Quest'anno il ProSession ha 5 scasse per una configurazione quad al fine di rendere la tavola più agile e veloce nelle piccole onde o thrust per raggi di curva più precisi ed ingressi più verticali. Dotata di inserti per navigare con o senza strap è disponibile nelle misure 5.8 o 5.11. Grazie a tutti. Grazie a tutti.